Per quanto riguarda l'Auxilium, questa mattina avete avuto un incontro importante, qual è il futuro della squadra di basket di Torino? Uno degli incontri che abbiamo fatto, come dire, anche senza grande clamore nelle ultime settimane, è stato positivo e stiamo lavorando per far sì che comunque a Torino il basket in Serie A possa continuare ad esserci, ci saranno ulteriori sviluppi e credo che entro la fine della prossima settimana potremmo pubblicamente spiegare qual è il progetto che stiamo costruendo. L'incontro con Stefano è stato veramente molto positivo, alcune aziende si sono fatte avanti, quindi adesso è il tempo di mettere insieme e chiudere il cerchio. Si può dire che potrebbe essere anche questo un successo l'ennesimo riguardo allo sport, un po' come la TP Finals? Si può già parlare di quasi successo? Ci stiamo lavorando, il successo si decreta alla fine quando hai raggiunto il risultato, quindi continueremo silenziosamente a fare la nostra parte come città insieme a tutti i soggetti e le aziende, Stefano, che si stanno muovendo e quindi il successo lo diremo quando è chiusa l'operazione.